La vita di Stefano De Martino sta per cambiare. L'amato presentatore ha deciso di cambiare. Con un annuncio a sorpresa. La grandissima novità. Mentre l'estate volge al termine, Stefano De Martino si sta godendo gli ultimi giorni di agosto immerso nella tranquillità e bellezza della Sardegna. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, questa è stata un'estate all'insegna del relax per De Martino, trascorsa in una lussuosa villa in compagnia dei suoi amici più cari e della famiglia. Tra i momenti più dolci di questa vacanza, un posto speciale è stato riservato a Mattia, il figlio della sorella Adelaide, a cui Stefano ha dedicato molte delle sue attenzioni. Stefano De Martino sembra essersi concesso un meritato periodo di riposo. Le immagini che ha condiviso sui suoi profili social, che mostrano piscine e paesaggi idilliaci, parlano di una vacanza rilassante, lontano dalle pressioni lavorative. Questo stacco dalla routine quotidiana gli ha permesso di ricaricare le energie prima di affrontare la nuova sfida professionale che lo attende a settembre. Del resto la nuova stagione televisiva per lui porterà una grandissima novità. Stefano De Martino. La grande novità in arrivo per lui. Cosa cambierà per lo showman? Stefano De Martino si prepara a una significativa svolta nella sua vita personale e professionale. Con l'autunno alle porte, il noto conduttore è pronto a fare il grande passo e trasferirsi a Roma, dove inizierà una nuova avventura televisiva come presentatore di Affari Tuoi. Questo cambiamento segna una nuova fase della sua carriera, ma comporterà anche una serie di sacrifici, in particolare per quanto riguarda la sua vita familiare. A partire dal 2 settembre 2024, Stefano De Martino prenderà il posto di Amadeus alla guida di Affari Tuoi. Lo storico programma di Rai 1 che intrattiene milioni di telespettatori nell'Access Prime Time. Il passaggio a un programma di tale rilevanza rappresenta un importante avanzamento per De Martino, che si è ormai affermato come uno dei presentatori più versatili e talentuosi del panorama televisivo italiano. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, questo nuovo incarico ha spinto De Martino a prendere una decisione radicale, cambiare casa e trasferirsi stabilmente a Roma. Questo trasloco segna un'importante transizione nella sua vita, portandolo lontano da Milano, dove attualmente risiede il figlio Santiago, nato dalla sua precedente relazione con Belen Rodriguez. Il trasferimento a Roma non sarà privo di sfide per Stefano De Martino. La distanza da Milano, dove vive Santiago, rappresenta infatti un sacrificio significativo. Tuttavia il conduttore sembra determinato a trovare un equilibrio tra gli impegni professionali nella capitale e il suo ruolo di padre. Secondo le indiscrezioni De Martino si dividerà tra Roma, Milano e Napoli, la sua città natale, cercando di gestire al meglio le esigenze lavorative e familiari. Un cambiamento arrivato proprio mentre il conduttore sta ricercando le pile per una nuova stagione televisiva.